Mercoledì 27 marzo a Loano, in provincia di Savona, si è svolto il workshop formativo per architetti e progettisti InfoProgetto, organizzato da Action Group in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Savona, Imperia e Genova e con il Collegio Geometri di Imperia e di Savona e l'Ordine degli Ingegneri di Savona. Il ricco programma dell'evento ha contribuito a diffondere la cultura del risparmio energetico, della sostenibilità e degli ultimi ritrovati tecnici nel settore edile. Io innanzitutto sono intervenuto in sostituzione dell'ingegnero Erotti, che oggi non è potuto essere presente, ma ho collaborato con lui sia alla progettazione che alla direzione dei lavori del nuovo stabilimento. Devo dire che condensare un intervento in così poco tempo non è facile. Ho voluto oggi cercare di dare un taglio su quelle che sono state le scelte progettuali che hanno portato alla concezione della quale stabilimento, quindi a partire da quelle che erano le esigenze del committente fino a calarci nel contesto in cui è situato il nuovo stabilimento, quindi nella piana di Villanuele del Benga, con certe caratteristiche, una posizione strategica in quanto vicino all'aeroporto Clemente Panero, quindi strategica ovviamente per la produzione della piaggio e ho cercato di esporre alla platea quelle che erano le scelte fondamentali legate soprattutto, e qui troviamo il legame con questo convegno, legate soprattutto alla sostenibilità prima di tutto del cantiere e poi in seconda fase ovviamente dell'esercizio dello stabilimento. Spero che i concetti che ho esposti siano stati sufficientemente chiari per la platea, devo dire che ho trovato una grossa partecipazione anche attiva, cosa che normalmente non avviene sempre in questi convegni e questo mi ha più affatto notevolmente piacere. L'organizzazione mi è sembrata molto efficiente, nel senso si è scelto di dare un taglio molto dinamico alla giornata e questo sicuramente coinvolge il partecipante. Io ho potuto seguire fin dalla mattina gli interventi e devo dire che sono stati coinvolgenti, hanno stimolato l'attenzione e sicuramente è un'impostazione che può produrre buoni effetti, buone riuscite di eventi di questo genere.